ciao ragazzi benvenuti sul mio canale oggi ragazzi siamo con il grande nick su farming simulator 2022 in questo video che stiamo andando avanti insieme con questa bellissima collaborazione insieme tra poco inizieremo a fare qualcosa ciao ragazzi ciao a tutti le nicchie bentornati qui su farming simulator 22 nella mappa deutschland ragazzi oggi dopo un bel po' di tempo sono qua in compagnia del signor x pazzo ciao ragazzi buonasera buonasera a lei stava un attimino il caldo il caldo l'ha bloccato era un attimino sì sì vabbè io c'ho l'aria condizionata sennò col cavolo che accendeva la web che ammazza me ne scappavo via e vabbè allora io oggi qualcuno mi dirà nicchie ma la mappa deutsch l'hai portata già l'altro ieri com'è che la riporti? è perché a pazzo non gli ho passato l'altra mappa quindi non c'era tempo per passargli 2-3-4 giri già abbiamo perso mezz'ora per partire qui ci ho voluto mezz'ora quindi figuriamoci se gli dava un'altra mappa che non ha va bene quindi per quello oggi siamo nella mappa Teddi Esken allora dunque qualcosa da fare ci sarà più o meno potrei chiedere alla mia assistente la vuoi sentire la mia assistente? ah c'hai l'assistente? dai fammi sentire l'assistente è una bella assistente è una bella assistente c'ha due cose c'ha le coltiva le angurie ne ha due lei ah ok vabbè eh sì ciao Bianca cosa devo fare oggi nella mia fattoria? vediamo che dici? vediamo che ci dici intanto non penso che c'è molto vediamo cosa dici dovresti sentirla in teoria non ti spacca i timpani ah no intanto vediamo qua chi è insilato si sta mettendo un po' si sta scaldando pure lei ecco va parla eh eh vabbè è giusto bella che? che c'ha detto? sta a dire che cazzo sta dicendo? vabbè c'ha ragione aspetta chi? vabbè vabbè non ho capito niente non so che cosa ha detto vabbè diamo ragione alla segretaria a un certo punto ho cominciato a parlare tipo giapponese vabbè vabbè io ho capito solo che ho debito in banca terreno 16 a erba e poi me sono perso e poi non ho capito più niente pensavo che l'erba se l'è fatta lei siamo d'accordo stavo studiando lingue sì sì no sicuro che parla qualche altra lingua vabbè allora niente mi sa che possiamo andare avanti col gioco veloce perché a parte il terreno 16 a erba pronto ma che non me ne sbatte niente dell'erba è questo trattore questo è un trattore bellissimo 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 allora io no io no no adesso facciamo passare una giornata perché abbiamo un mucchio di insilato però l'insilato non è il momento di venderlo quindi mo facciamo passare una bella giornata piccato sto trattore vado a nina vado a nina sembra il motozap mi sembra e lo è eh va vedi andiamo a dormire ma vai a dormire e mi lasci qua ma io non lo so e tu dormi per strada no a casa mia un letto solo c'è vai quindi io dormo per terra va bene va bene non sei contento anzi no dormo anzi dormo dormo nel fienile dai ma vuoi dormire con le mucche con i cavalli con chi te pare tranne che con l'assistente puoi dormire con chi te pare allora dunque 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 vediamo un posto di cavalli ma ancora è presto ancora i cavalli ancora 16 mila euro ok 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 vediamo cosa c'è da vendere potrei chiedere all'assistente ma poi ci metto tre ore a rispondermi poi parla in giapponese poi parla in giapponese oggi non c'è niente da vendere c'è stanno succo di mela latte di pecora comincia ad accumularsi io c'ho latte di pecora ma lana ancora non ne stiamo a fare lana se volessi mettere un capanno per le pecore perché abbiamo le pecore da latte non abbiamo le pecore da lana se io volessi dare se le volessi mettere un po' di spazio ancora qui mi avanza così me consumo sto spazietto rimasto è buona tanto che ci devo mettere qua sono animali no i suini non li voglio vedere troppo complicate le galline ce le ho allora se parliamo di pecore 51 mila euro 51 mila euro ci potrei mettere questo non te lo metti qua lo spazio qua verde lo sta qua lo metti eh sì allora ragazzi stiamo mettendo un po' un po' di cose qua dobbiamo un po' capire bene come cosa fare oggi bianca che parla giapponese vabbè l'assistente di nick che parla ha detto solo due cose poi non si è capito e niente vediamo cosa fare sicuramente qualcosa c'è da fare sicuramente che and i nick mi farà zappare sicuro sicuro come loro eh no aspetta prima di fare danno sai che te dico livelliamo così almeno eh va bene ah così proprio aggressivo sì è proprio di aggressività ok perfetto sei a livello ormai c'è eh poi vediamo ormai c'hai proprio la penna precisa ormai vediamo ah va perfetto l'hai messo ecco va eh aspetta un po' sotto è andato è andato un po' al lato no ma non ci fa niente fa niente vabbè ehi il fatto che scendo un po' non è un problema no ma solo quell'angolino scende poi il resto va bene come un geometra sei diventato pur geometra mi sei ormai geometra nicche ah ma tanto ci metto l'erba lì non si vede più niente comunque è uscito perfetto quello che sto vedere è tanta roba ah così e tanto ora poi l'erba poi diventa tutto uguale adesso così ma poi si adatta ok 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 e così mi sono sfruttato st'ultimo spazietto eh buono basta ci potete mettere altre piccole cavolate e beh sì non è che arrivano dal cielo allora dunque direi beh non è che ce ne entrano tante no 2000 euro non me le danno ok allora no 5000 euro allora ne pio allora pio quelle già mature caspita 13000 euro compra poi eccole qua ok ce le pecorelle allora perfetto sì 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 ma io la faccio sapere alla mia assistente Bianca ho appena acquistato un recinto nuovo per le pecore ho preso delle nuove pecore e dovresti vedere che al momento sono senza cibo quindi adesso mi occupo di dare loro un po' da mangiare vediamo che dice ora mi traricca il tuo debito hai aumentato il debito disgraziato ma come faccio io adesso a fare sanare i debiti ah qua abbiamo questo mezzo questo mezzo gordi che problemi non sono proprio a secco non hanno niente quindi non è la stessa cosa vai vai ec ah monenna ah ma ci stanno dei dislivelli qua eh vabbè dai ma ho poco mica tanto dai stanno poco oh via ma ma mangiano solo questo non so sì no qua gli devo dare una livellata è proprio troppo storto eh appena appena si smussa ma si vede o non si vede sì sì sto vede sto vede che sei abbassato il livello ah sì sì ma anche qua sotto non mi è piaciuto vabbè dove all'angolo eh dove ho preso le balle ah ok proprio scomodo era eh ok no però a me sta piacendo come sta avvenendo ma guarda che non è male tanto sotto l'anno non lo usavo eh allora a me ne abbiamo ci hai fatto qualcosa anzi sai che ti dico eh ti dico che qua ci dovrei fare proprio una stradina perché mo visto che ci passo io qua ci faccio una stradina nuova progettazioni vernice quale cavolo è questo ah pare che questo faccio una stradina che va per di qua a posto quindi quando ne metti due ne metti di balle ne metti due ah ma io che do all'assistente mi dirà se il cibo ci bastano attenzione che la metto dentro di uno sta balla vabbè penso che ma quando ne hai presi di pecora 25 il massimo un recinto piccolo eh vabbè penso che no mi sa che no no mi sa che è il massimo sì 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 il massimo ok bianca com'è la situazione con gli animali hanno bisogno di cibo adesso vediamo che dici ok eh eh da un volice che dice l'assistente ma ci mettermi i pallet per la lana ma dove hai preso il pallet sì che ho detto eh eh Segui Ho invece messo il pallet qua Emo sta balla rimane qua però Sta balla Ma che caccio sta a dire? Ma che embriaga Oggi che cazzo Che problema c'ha? Vabbè, vabbè Vabbè Abriaga, abriaga Ok Ma poi embriaga ultimamente, non lo so, sta dando i numeri Vabbè, è caldo, è caldo, dai Ma poi controllo, non sto a capire Perché non hai messo l'aria condizionata dentro l'ufficio sta dando i numeri De caldo Sì, non gli ho dato l'aria, sì, sì Può morire, starà a morire de caldo Vabbè Allora, comunque Allora, le pecore ce le abbiamo Gli ho messo tutto Il cibo ce l'hanno Ma ha detto controlla tu Perché io non so niente della vita Eh, ok Eh No, beh, il cibo c'è alla fine Aspetta, questi che? No, questi non hanno bisogno di niente Ok Da vendere oggi non c'è niente da vendere I cavalli No No Ci hanno bisogno di mangiare No, ancora è presto dai cavalli Ok No, ma ci vanno, ci vanno Ma io forse dico che andavo a dormire Cioè andavo a far passare un'altra giornata No, aspetta, il cavolo Gli terreni Gli terreni, i terreni Gli terreni, i terreni C'era Nooo E ce l'ho l'erba C'è un mucchio di balle Che me facciamo Perdita di tempo, eh No, no Ma si deve raccogliere il campo? Si deve raccogliere? Mmm Mmm C'ha secca Peccato, dai Sì 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 E Sì I Che cazzo Ma che c- Aah! C'ho stai dicendo? Ha ha ha! La figgera pa poi pa poi! Ho già mi sei Eheh, il caldo il caldo È il caldo noi Abbiamo scoperto che sia il caldo che Ehi La segretaria va in tilt altrimenti altrimenti ma io non ho capito ma chi è imbriaca a meno se Orotrack parla meglio qua pare proprio che la lingua si blocca vabbè comunque niente un'altra giornata l'abbiamo fatta passare vediamo che c'è da fare di bello Apple Juice ma ancora lo so o si va a vendere l'Apple Juice andiamo a venderlo ma si vende meglio a febbraio e l'inziato si vende a gennaio però siamo ad agosto qua siamo ad agosto con il debito che abbiamo 240.000 euro ma sai che ti dico andiamo a vendere l'Apple Juice c'è un camion con cosa lo vendi? si 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 qua qua sopra qua sopra salgo salgo ma Bianca adesso vado a vendere il succo di mela così posso pagare un po' il mio grande debito vediamo che dici oggi pare imbriaca proprio non ci sta proprio ognuno madonna sto pure allaggato mamma mia quando ce ne stanno tutto quello ce ne stanno ma si può mettere un po' sopra o no la no che me la metto così? eh ma si tanto è qua sotto che dobbiamo andare a vendere non ti preoccupare eh vabbè ne posso mettere ancora oppure eh si carica carica dice che dovremmo guadagnare 130.000 euro buono buono 130.000 euro a me se no vado a fare sto giro di vendita un po' più come dire perché tanto è qua dietro ok l'abbiamo caricato proprio ma si si no no ma poi sta allaggato sti pallet madonna fammi andare a vendere va buono 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 va a posto eh qua è qua dietro è qua dietro eh vabbè ma se fa la curva non se ne esce non se ne esce se fa la curva no 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 sollecati sollecati non cadono vabbè dai un po' ce lo vendiamo troppo no è qua dietro guarda proprio qua sotto a due passi ok 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 così vediamo indietro un po' tu debito eh beh soldi so però guarda là quindi 130.000 euro aveva detto vabbè 73.000 questo primo passo soldi si vabbè poi tutti questi che abbiamo qua ah beh mo arrivo vai vai carichiamo gli altri ma devo capire perché parla ubriaca perché mi dà fastidio ma saranno dovrò capire eh si no no c'ho paura che è proprio la sintesi vocale non tanto non tanto il intelligenza ho capito eh può essere devo capire devo capire se il test è proprio in una lingua strana o perché è proprio la sintesi che fa la strana eh eh infatti allora carichiamo carichiamo ah a posto l'ultimo eh guarda mi cazzo me l'ha messo questo vabbè non ti preoccupavo ciò da una raddrizzata a posto vai per caso non si può salire in due ma anche non si usava il cubota ah ok ok vai vai io ma forse c'era una mod ci sta eh vabbè non fai vabbè beh almeno ridiamo un po' di debito teniamo il debito un po' dai no la segretaria bianca si incazza si si incazza poi comincia a parlare strano vabbè fa paura quando parla strano quando parla strano fa molto paura ma non so il perché eh vabbè ci sarà forse legge qualcosa qualcosa di 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 non corretto oh allora qua cosa c'è ah questo non è questo non è il toolcampo qua allora però tronda ancora è da una settimana tipo che l'ho messa su farming più o meno eh vabbè ci sta allora che cosa allora i campi noi ci abbiamo aspetta è giusto devo dare devo dare indietro i soldi aspetta che ci sta che ci sta eh uno girasoli uno non mi ricordo sì girasoli l'altro mi sa sorgo possibile no forse non mi ricordo sorgo girasoli forse ah ma tutto l'evitato il precie tutto tutto il prestito no no aspetutto no tutti i soldi che ne so si compra qualcosa che ne so ma è che devo comprare aspetta questo perché giù qua per ora non abbiamo venduto tutto tutti di frutta ok allora la partita la salvo non si sa mai dopo tante cose belle allora e questa è andata dunque ancora se abbiamo 120.000 euro di debito da rendere oggi un isba no no i terreni ma i terreni li vedo già qua il terreno 7 in fase di crescita fertilizzato bla 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 e quello con l'erba quello con l'erba ah quello con l'erba l'erba non mi importa perché di erba dovrei ancora lì guarda quanto fieno che ci sta l'erba poi si può raccogliere tutto l'anno quindi quando mi serve la raccolgo ancora qua ce ne stanno di balle allora abbiamo che ho restituito un po' di debito alla banca mi puoi dire gli animali se hanno bisogno di cibo se hanno bisogno da mangiare se devo fare qualcosa con gli animali vediamo che dici intanto intanti i cavalli forse sono da vendere ma penso di no paura ho paura la risposta ma così così ma così così sti cavalli me li tolgo così oh chi è dimmi ma come mai 20 mila il cavallo è arrivato strano che non riesce a vedere se hanno bisogno da mangiare o è cambiato qualcosa poi poi controllo ma non è perché siamo in multi ma non è perché siamo in multi può essere ah può essere è la prima volta che la uso bianca nel multiplayer può essere tutto comunque sorgono ne abbiamo tanto non gli posso dare da mangiare il debito l'abbiamo restituito ah ma mi levo sti cavalli ma che cacchio mi tolgo tutto il debito tanto costano 20 mila l'uno vai vai però erano belli mi piacevano quella criniera bianca erano belli eh non so ora ne vediamo 5 nuovi debito che la banca non dico che lo tolgo ma quasi almeno abbiamo ridato altri soldi ho tolto tipo 200 mila euro di debito allora andavo a dormire perché tanto i terreni non dovrebbero essere pronti chieda bianca e ci metto 3 ore prima che mi rispondi allora maice girasoli semi di soia sorgo aspetta sorgo un momento dovrebbe essere pronto un mo' sorgo era al campo 7 al campo 7 dovrebbe essere vabbè no aspetta metto il turbo vado a vedere sto camposetto no no girasoli sono girasoli aspetta allora aspetta forse no il sorgo sta qua guarda guarda ah sta qua sta qua questo è il sorgo si 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 però sei in fase di crescita vabbè ma domani dovrebbe essere pronto perché a settembre dovrebbe essere pronto allora aspetta che io mi vado a dormire nelle pecore aspetta ci vediamo vai 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 bianca ho restituito ancora del debito che ne dici com'è adesso paniche mi lascia mi lascia dormire ecco sto dormire con le pecorelle sto dormire con le pecorelle sto dormire ah siamo un po' piove piove mi sa magari magari piovesse la verità questa elevata di excel game cosa? eh no ok ok bianca cosa devo fare con i terreni c'è qualche terreno che deve essere mietuto trebbiato in teoria quell'assorgo mi pare che è pronto vediamo se me lo dice ah si è pronto è pronto vado a pia trebbia vai vai ah lo senti puoi fare puoi caricare il latte di pecora nel furgone che vendiamo il latte di pecora dove sta? ce l'hai già aspetta pecora latte ah il latte quello che abbiamo messo qua che camion prendo Nick per vendere aspetta l'attimo ah il furgone è dove abbiamo prima raccolto ah ok dove abbiamo fatto prima capito allora quindi anche il girasoli dice che sono pronti ok buono ok girasoli pronti sorgo pronto ah il furgone va va fai i tab no trovi subito lo so anche tu c'hai ragione ah no no perché mo vedo che cioè potrei anche chiedere a Bianca giusto per conferma Bianca cosa c'è da vendere oggi bisogna vendere qualche cosa mo vedi che dice latte di pecora questo è latte di pecora Nick però lo prendo dalle pecore la batteria qua dice agrodeco la batteria sa che cheacchio vede ma neanche si sta la batteria sta la mappa si dice cose oggi vabbè e niente si vabbè le intelligenze artificiali le intelligenze artificiali sono così alle volte quando una cosa non la sanno se la inventano si è vero per non dire cioè come dire caspita ha ragione lui allora boh mi invento qualcosa mi invento qualcosa che è simile alla parola che mi ha chiesto capito si si ma è un difetto dell'intelligenza artificiali proprio il più grande difetto di tutte le intelligenze artificiali e quando una cosa non la sanno magari se la inventano e difatti bisogna starci attenti ok io sto andando a vendere però magari fra due o tre anni sarà tutto più buono ma ancora l'intelligenza artificiali non è che so perfetto anzi ma porca miseria quanto lo tengo lungo il coso qua sbatto che cos'è lungo eh il pipino qua lo sbatto negli alberi o per il debito comunque direi che ormai quanto bene è rimasto e mo tu che vendi quella roba lì sono arrivato a vendere devo andare di qua ah ma sta pure vicino la vendita ho sbagliato strada va a vendere va sono partito di qua io si andiamo a vendere siamo arrivati lungo ah lei diceva le uova ma le uova però sinceramente al momento preferirei non venderle no no le uova da 23.000 a 30.000 invece il succo di mela di nuovo oh 90.000 euro al giorno di succo di mela sto a fare di tutto è miseria questo succo di mela è esagerato le sole mele che ancora non sono manco succo di mela sono 30.000 euro eh sta modo dei succhi di mela si fanno un botto di soldi però vabbè ci sta perché sta mappa le cose costano milioni quindi volendo ci sta eh si ma quanto ce ne va dentro sta trebbia di sorgo ancora sto al 50% a me il sorgo è buono perché lo devo dare alle galline Nick ma non me lo fa vendere perché non riesce a vendere no non te lo fa vendere perché forse che dove stai te se è quello che penso io non è cioè non è il latte di questo ok no niente tu te trovi lì eh che cos'era che stai vendendo il latte di pecora eh perché il latte di pecora è una cosa esterna non è una mod ah ok non è una non faceva parte di questa partita il latte di pecora allora potresti forse sicuro sicuro puoi andare a sell everything quello compra tutto eh però eh ma non mi ricordo dove l'ho piazzato sto sell everything eh vabbè dai mo lo vedo ah eccolo qua eccolo qua trova 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 eh vai lì perché quello sicuro lo compra quello te lo compra al 100% e poi paga un poco 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 meno ma vabbè eh vabbè intanto anche io ho iniziato a trebbiare il sorgo sul terreno numero 7 sto riempiendo la mietitrebbia vediamo se vede la mietitrebbia che si sta riempiendo in teoria dovrebbe vedere sì sì non è ancora niente pieno niente no qua non mi fa non mi fa vendere impossibile aspetta eh dico metti i venti ma non mi va non lo so ah si prova a venire a vedere questo è sale per esempio ma strano dovrebbe ah forse bisogna metterli per terra bisogna metterli per terra può essere vedi un po' vedi un po' in teoria in teoria mi pare scarica a sinistra no? ma dai ma porca scarica a sinistra ma veramente? no ma sì no ma sì vabbè non è quello se mo la è una bottarella più forte sì po' ma cosa è complicato in teoria Celebrity ha sempre comprato tutto ah vedi bisogna metterli per terra eh bisogna metterli per terra va bene grazie molto gentile e se no non ce l'ho un carrello basso sì ci sta un carrello basso vabbè uguale poi lo faccio io perché tanto stiamo per concludere sì sì però vabbè ho capito che poi devo fare questa cosa ci vado col carrello basso invece che quello è alto ok bianca ho ripagato tutto il debito alla banca vediamo se è contenta no no ma che con questa qua debito non ne può fare uno eh questo è pericoloso cioè sta attento non me ne fa fare proprio se gli dico voglio farmi un debito lo compri un terreno no no sei malto non lo fare non lo vuoi non lo fare sei pazzo no niente debiti ok nella vita reale ci sta è buono che dici sai i debiti sono una cosa seria ma va bene va bene questo si ingassa allora voglio direi che concludiamo perché qua sono passati 40 minutini caspiterina più 40 minuti per poter giocare insieme perché farmi che è il solito complicato va bene allora aspetta che sto tornando eh sì allora ragazzi dunque speriamo che il gameplay vi sia piaciuto finalmente quindi oggi ci siamo tolti il debito anche grazie alla vendita dei cavalli ovviamente perché sennò non ci arrivavo e ancora ci abbiamo da vendere succo di mela effettivamente vallo a mettere qui a sinistra che poi carico poi ci carico il succo di mela che poi il succo di mela lo ricarichiamo cioè che poi tu direi ma perché allora non carichi con l'autoload il succo di mela perché non ne carica granché ne carica due non ci faccio che carico due no no due no ok va bene ragazzi quindi speriamo che il gameplay vi sia piaciuto mi raccomando commentate scrivete lasciate un bel pollice in su vi ricordo che in descrizione trovate il canale di pazzo un link per comprare questi e tanti altri giochi scontati e molto molto altro ci si becca ciao alla prossima ciao ragazzi alla prossima ciao ciao